In un giorno qualsiasi, di una settimana qualsiasi, di un anno qualsiasi, 2013, c'è Koda, tutte ragazze, davanti a Shibuya 109 per entrare. È incredibile. Cioè, se avevamo i 10.10 c'era lo stesso, non c'è un soldato o qualcosa che devi correre a comprare, ma... Da quando siamo arrivati stamattina, magari vi ho aggiunto un pezzo di video, delle foto in fondo, c'è già Koda. Loro amano fare Koda. Sono tutte vestite stranissime, carinissime. Incredibile. Aspettiamo di entrare a Shibuya 109. C'è addirittura la polizia per aprire Shibuya 109. La sicurezza. Finalmente si entra, uno alla volta, attenzione, attenzione. Non spingete. È un momento... È un momento... E loro erano in coda due ove per entrare per prime. No, no, l'ho già fatto già... Ah, no, l'ho già fatto... Ah, no, l'ho fatto qui, quella è l'ingresso. La commessa ci manca. Cari amici a casa, venite in Giappone. La commessa ci manca. No, l'ho già fatto. La commessa ci manca. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.